Si chiamava Emiliano Pimpanini, ragazzo 21enne che ha perso la vita nel tragico incidente di sabato poco dopo l'ora di pranzo a Fermignano. Il giovane conducente, un operaio residente a Canavaccio di Urbino, era a bordo della sua moto quando in fase di sorpasso ha impattato contro una Fiat Panda condotta da un quarantenne del posto. Il giovane centauro voleva superare la colonna di auto e non si è accorto, se non all'ultimo, della manovra dell'auto che svoltava per entrare nel distributore di via Fallasconi. L'urto, forte secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, ha scaraventato il ragazzo a parecchi metri di distanza dal punto dell'incidente. Le condizioni sono apparse subito gravi sul posto il 118 e l'Egliambulanza per il trasporto all'ospedale di Ancona dove Emiliano Pimpanini è deceduto a causa delle gravissime ferite. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale per rilievi di legge. Grazie alle telecamere di un esercente pubblico la stradale ricostruirà la dinamica in relazione all'indagine della Procura della Repubblica di Urbino che ha aperto un fascicolo per accertare le eventuali irresponsabilità per il reato di omicidio stradale. In attesa di sviluppi domani alle 15.30 nella chiesa di Canavaccio di Urbino si svolgeranno i funerali del giovane centauro 21enne.